e allora buongiorno la mia voce è apparsa come per incanto poco prima di fare il video guardate ma guardate quel qualche angioletto custode ancora mi vuol bene cosa ditemi che mie si intanto io passeggio intanto nuovo perché così vedete la leggeria di questo abito cos'è tessuto mano pesca quello che adoro perché lo adoro perché non si stira si lava tranquillamente due secondi sarà già anche asciutto e poi quanto è bello questo abito sto parlando ho deciso di parlare a bassa voce oggi no comunque ragazze dove sta la sorpresa perché io vi ho scritto sapete che vi avverto sta nel mio supporto di oggi io ho preso una decisione vestirò tutto in bianco e nero quindi ho un aiuto che adesso vedrete anzi che apprezzate sicuramente dico magari prezzi intanto sì e poi partiamo perché sicuramente bomba bomba le richieste dove su whatsapp mi piace la vostra capri oggi borsa in pelle 89 euro misura media perché c'è chi di voi non gradisce quella troppo grande c'è chi di voi non gradisce quella troppo piccola e quindi questa qui è una misura media bellissima stupenda in pelle 89 euro il nostro giacchino indosso una taglia 40 come di questo abito poi toglierò la cintura mi aspetto già tutte le vostre richieste fammi vedere senza cintura tantantantant bellissimo bellissimo da portare in una versione con il tacco che sapete a me piace mi piace tantissimo bellissimo questo ci porterà finché ci saranno so quanti ne avremo ma sicuramente con il caldo ma non solo perché lo possiamo già portare adesso con le giacche dei tagliari con questo bellissimo chiodo a 119 euro abito vi ricordate il prezzo ne avevamo due uno in fantasia uno in tinta unita il suo gemellino ne abbiamo ancora a cate di quelli a 30 euro no finiti sicuramente perché 30 euro sono gli ultimi pezzi che erano rimasti questo 99 euro e tre fantasie bello vero adesso tolgo il giacchino così ve lo faccio vedere ma stavo dicendo mi piace la vostra gabri con la cola a lato mi sento un po una gitana oggi e mi rappresento proprio mi sento bene sai che mi sento bene non parlare così facciamo la sorpresa delle nostre amiche stavo dicendo che ci sarà di là chi ci sarà chi ci sarà 119 euro e questo abito meraviglioso vi dico già che la 54 la vestiamo alla grande perché guardate essendo tagliato in isbieco con il collo a pellicano vi faccio vedere subito per gli amanti della non scollatura che voi lo potete prendere girare vedete chiudotelo come più vi aggrada io lo apro io lo apro ok perché mi piace portato così 99 euro fantastico e meraviglioso io indosso il nostro body sotto perché ogni tanto mi cade pure lo spallino perché non lo tengo abbastanza tirato perché la vostra gabri dice di essere cosa fastidiosa quindi quindi mi sento bene nonostante gli antibiotici nonostante la laringita mi sento bene il nostro giallo per la vita vai con le rughe 229 euro che dire guardate ci sei allontanata sì 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 giusta ok no era giusto per dire che mi definisco gioiello per la vita perché sono dei gioielli a tutti gli effetti sono tutti creati e montati a mano e poi madre perla corallo onice perle chi più ne ha più ne metta è bello volevo dare un tocco di colore allora piatta le trombe facciamo trovare la fatina magica fatina magica ai propri colori ma buongiorno sapete che quando io arrivo come arrivo con le sneaker perché questi capi si portano possono portare anche in maniera facciamo vedere la differenza molto diversa guardate questa è la seconda fantasia di questo abito vi piace poi ce ne sarà una terza che non so perché l'abbiamo nascosta l'ho nascosta io un dei miei colori preferiti che ho messo con le mie amate sneaker certo c'è anche un sandalo sì avevo il sandalo però ho detto dai partiamo con le sneaker che vediamo questo fantastico mano pesca che sta allora cioè guardate ragazze raccontiamolo alle nostre nuove amiche perché ne abbiamo tante che ci seguono dei social o ti riserviamo che lo racconti intanto che vado a cambiarmi come preferisci se tu vuoi andare a cambiarti quasi quasi visto che ragazze oggi ci facciamo un po di cambi vi dico subito siamo qua per voi esatto tutto il giorno per voi lei è qua per la mia voce sono arrivata in supporto ma la voce ce l'hai come è tornata stamattina sono arrivata io ritornata la voce è tornata stamattina non proprio sì no è migliorato un attimino qualora mi venisse una crisi di tosse no? guarda caramelle acqua antonellina cosa vuoi di più? ecco l'abbiamo tutto la voce è sistemata la teniamo sotto controllo e poi magari sono più contenta perché magari taccio un po' no? dicono che non si lascia mai parlare questo non lo so però sono qui a fare il mio ruolo ragazze è insomma il supervisore ma non serve perché qui ragazze vanno avanti da soli prima di andare borsa bellissima sai che guardate che particolare questo nodo questo nodo e questi nodi e questa tutta in pelle guardate sì è bellissima l'abbiamo così e burro bellissimo anche burro ma sarebbe bene anche quella lì però anche un tocco di stacco come dico lì ma a me piace staccare e dirti la verità come colori se io non avessi questo colore che poi adesso vado anche a togliere così l'abbiamo mostrata raga ce la fai? sì 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 aspetta 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 ecco grazie ecco mi raccomando ragazze questi gioielli per la vita sono in guardate tutto montato a mano vedete non devono cadere perché se cadono tra cristalli perla e tutto ne ha più ci vuole un attimo di attenzione come tutte le cose un po' delicate ovviamente no? ovviamente no? quindi dicevo se io anche portato solo così prendo questa questa borsa e vai a staccare e la andiamo a staccare con il bianco e nero quanto è bella anche così praticamente sta bene un po' su tutto poi sta a voi con la vostra fantasia con la vostra bomba di... è chiaro con il vostro gusto potete metterci il giallo, l'arancio, il rosso guarda che posso vedere questa adesso che mi stai facendo venire in mente perché questa è una meraviglia sono quelle pochette che non tirano i fili perché 39 euro guardate anche questa bellina 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 che dite eh? molto molto elegante esatto così è più elegante mettete il sandalo più elegante ovviamente vi diamo la visione diversa di ogni capo portato con qualcosa di differente e te lo dico sempreagensosso indossi il colore dei tuoi occhi e io e io e io e siano così noi siano così siano così e cosa dite io mi piaccio però sai ugni tanto pettinate un po' in maniera diversa io sono andata ia Bellotti quel'altro giorno e mi ha detto avevo il nostro portatelefono che è questo che indossavi prima che indossavo prima, che indosso sempre e mi ha detto ma signora vedo che lei piace sbarluccicare e mi ha detto sì, in realtà sì sa che siamo simili io ho addirittura le stringhe delle scarpe beh io non ti nascondo che ho l'anfibio così non so se tu l'hai mai visto con tutti i lacci con gli strass quindi più luccichiamo meglio dobbiamo mettere ciò che ci fa star bene io non è che voglio apparire io sono così, mi piace mi piace poi quando devo essere lo dico sempre alle nostre amiche vestite in base a cosa dovete fare a come vi sentite abbiamo andato insieme ovvio che se io dovessi andare non so a un colloquio di lavoro magari cerco di andare con un bel tailleur che poi andremo a vedere e ne abbiamo è quello che è di bello dei nostri articoli che in base a come li abbiniamo e a come li sostituiamo e a come li coordiniamo e a come li indossiamo e a come li scegliamo il mattino possiamo fare dalla spesa a un matrimonio assolutamente questa è la dimostrazione natalina chiede che prezzo questi vestiti sono taglie uniche assolutamente no natalina molto probabilmente si è arrivata adesso oppure non hai il sonoro 99 euro è dalla 40 al 54 e dalla SXL quindi è uguale anche 56 ora faccio vedere io mi ritieni un secondino perché ha l'elastico in vita sì io l'ho messa perché addirittura mi era morbido vedete questo elastico che è morbidissimo è un filo di elastico che sostiene un po' il punto vita ma che vi dà comunque la comodità qui non avete nessun problema qui come dicevo tagliato in esbieco perché il collo è proprio per questo motivo quindi vedete che io indosso una 40 ma può diventare anche una 44 anzi si scolla meno certo quindi vi anticipo già assolutamente che qui si arriva pure a una 56 ok quindi amorinei cos'è che dovete fare misurine alla mano sai che ho preso le misurine anche alla nostra e scrivere su whatsapp anche alla nostra marina l'altra volta perché io magari di giorno non riesco a seguirvi però poi la sera guardo le dirette e ho anche scritto a marina ciao marina c'è marina perché è stata fantastica e l'ho ringraziato e l'ho indossato i nostri capi con un ha indossato una taglia 54 guarda fantastica sembrava di avere non so una 48 vero poi marina ci hanno fatto tutti i complimenti quindi 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 devi tornare aspettiamo un'altra aspettiamo perché ho indossato anche a lei questo abito sarebbe fantastico non bello di più anche l'altra fantasia che poi svegliamo sì sì lasciamola lì intanto vuoi fare il primo cambio? sì vediamo cosa hanno abbiamo Antonina con delle bandierine della Svizzera i coricini verdi dice ciao buon lavoro e buona fortuna grazie tesoro da Lugano quindi ci stanno guardando veramente da tutte le parti marina che chiede l'altro colore pazienta un attimino sospanso arriviamo arriviamo stavo pensando dove ho messo gli occhiali in camerino camerino sì è arrivato un meraviglioso creaturo da Roberta è vero siamo proprio agli antifodi io e te sì io bianchina io la chiamo Nerina quando siamo insieme sì Nerina alcune Nerina in tutto dai capelli e la bronzatura io sono biondina sì ma adesso esco a pezzi perché allora ho una mano bianca dove metto il guanto è una mano di scura sì effettivamente è un attato adesso è tesoro c'è il guantino certo e quindi questa è bianca la signora c'è il guantino capito Cate le maniche ho cominciato a metterle maniche qui altrimenti esco come vabbè una classe di lavoratori molto apprezzata ma Cinze dice che è già arrivata l'estate con questi vestiti sì sì ma poi assolutamente sì ragazzi dopo vi parlo di questo tessuto perché è sempre bene spenda due parole falsa sotto un anfibio un golfone si porta anche in inverno ok ragazzi sono d'accordo quindi fate voi il vostro gioco scegliete perché questo poi è il tessuto delle camicie delle bluse che utilizziamo in inverno che adesso vai a spiegare che cos'è e io vado a fare un changement a pregio avete detto il prezzo di questa borsa 89 euro bravi prezzo dell'abito 99 euro in tre fantasie tra un po' arriverà la terza prezzo del giacchino 119 euro ecco pelle quindi cosa dobbiamo dire ancora basta diciamo che chi ci segue sa che riusciamo a mantenere i prezzi da anni da quando ci conosciamo questo abito 99 euro era così da due stagioni fa esatto cioè due stati fa e è un modello che ha detto Gabriele io lo riprendo stravenduto perché è troppo bello perché è magico perché è magico infatti alcuni capi te li ritrovi proprio per quello perché noi comunque valutiamo e ogni tot di tempo chiaramente di riproporli perché sono io le cose che ho degli anni se sono più hai capito quando si vendono così bene basta cambiare la fantasia e si ha il capo nuovo infatti non saprei stavo proprio la mia espressione è cambiata perché non so io inizialmente magari prenderei questo di solito è quello che è per le strade del turchese qualcosa di e poi c'è la fantasia un attimino più forte per le la porto io quando arrivo intanto tu spieghi il tessuto se poi vuoi far vedere magari spieghi i pantaloni spieghi la giacca spieghi i prezzi se vuoi far vedere dalle maglie sotto io intanto vado a vai vai io leggo tre messaggini veloci abbiamo la nostra Marina e Modella Curvi che ringrazia con tutti i cuoricini grazie a te Marina e tu sai ti ho scritto quindi ho apprezzato tantissimo il fatto che tu sia venuta e indossato tutti i nostri capi soprattutto quelli colorati perché comunque fino alla taglia 54 non è che ci si deve vestire sempre di scuro e noi lavoriamo una vita con le taglie alte e tu hai proprio dimostrato quanto le taglie alte stanno bene anche con i colori ti hai portati divinamente lasciatelo dire tanto? visto che era lì disponibile guardate com'è bello anche col bianco prende ancora più luce vero? oggi voglio fare bianco e nero quindi bianco e nero o nero e bianco lo decidiamo però però devo dire che sta proprio bene anche così sì assolutamente che tagliai del giubbino? 40 quella di prima 42 quindi io come vi dico sempre porto tutte le taglie sì non so cosa dirvi cioè metterei anche questa così come metterei la 40 volevo farvi vedere un'altra solo un secondo perché mi erano in mente e mi piaceva farla vedere con questo abito anche perché quella di prima 229 euro e lo sappiamo è un gioiello per la vita ma magari non hanno voglia di spendere un attimino in più o non possono o qualsiasi cosa mi piaceva far vedere questa mia creazione che è bellissima a 20 euro questa diciamo così accessorio che è molto 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 bello poi magari prendo il fiore lo possiamo lasciare dritto o possiamo fare anche così ma anche se hai in capelli che dici? va bene? la cincillina qui si è ripresa adesso ma c'è la tina era sono attenzione avevo anche un po' di labirintida ma io cos'è che dico con gli sbarioni era cos'è che dico alle mie amiche che sono loro che mi alimentano io non lo so è vero quando devo entrare in video cambia proprio espressione cambio da così a così modo tutto non so per cosa vi devo dire diventa anche meno bacchettuno in diretta no che ogni tanto lo sei fuori diretta cavolo provate a voi a star qua con tutte queste qua quelle qua una che fa una roba una che ne fa un'altra una che arriva un orario una che ne fa un altro se non fossi così eh un romo inventati esatto cate ride per forza per forza quante mi dicono adesso l'ho detto che cosa vuol dire queste qua quante mie amiche che lavorano in altri lidi che mi dicono non sanno la fortuna che hanno e per l'orario e perché fanno quello che vogliono e perché non lavorate di domenica se se ve lo dico io ve lo dico guardate 39 euro non è bella anche questa particolare l'hanno rivisitata è diversa da quella che proponevamo l'altra stagione tutta vedi qui è tutta in paglia con i manici in legno e poi tutte queste tutte queste applicazioni in paillette che sono una più bella dell'altra in tantissimi colori quindi perché no stiamo a stare molto bene vedete perché togliendo quello che era il rosso di prima l'abbinamento diventa per far vedere un po' il cambio con gli accessori potremmo essere sorelle sì certo bionda e mora una uguale alla mamma l'altra uguale al papà ecco esatto un papà moro e una mamma bionda perché no mi sarebbe piaciuto chissà se mio fratellino mi sta seguendo se sì siamo due morazioni invece ciao non so se sei lì abbiamo Lidia che dice ma che meraviglia le due sorelline di cuore baci Cate e Simo ciao ciao Lidia Rosaria siete veramente bellissime buon pomeriggio abbiamo Antonina che scrive Antonella complimenti di cuore il tuo bellissimo outfit questo colore ti dona molto con le ginniche sì sì fatti glielo ho detto ginniche ciao avevo portato un sandaletto proprio molto estivo un po' alla schiava ho detto no forse troppo perché sono uscita con la giacca ma ritornando a noi oltre ai prezzi abito 99 giacca 99 la giacca è in bengalina lo sapete l'abbiamo presentata più volte e qui avete la possibilità di abbinamento anche con il pantalone sigaretta pantalone trombetta pantalone palloncino gonna palloncino quindi quattro articoli sotto un capo spalla io mi chiedo dove potete trovarli da nessuna parte perché di solito fanno tagliare col pantalone fine che sia un sigaretta o un palazzo è molto difficile trovare quattro articoli con lo stesso tessuto che girano sotto un capo spalla quindi noi riusciamo a fare nel nostro piccolo perché noi siamo comunque dei produttori piccoli siamo a livello familiare quindi avete già capito tutto questo lo dico soprattutto le nostre amiche che sono nuove che sono arrivate dai social e sono tantissime quando le ragazze e Gabriella parlano del Medibrescia presente io con Alessandro che è mio figlio e con mio marito siamo i produttori i produttori del cuoricino perfetto c'è qualcuno che ti cerca? sei mio non l'ho silenziato scusatemi posso? a posto ah ok scusate come sei tecnologico sì così così e ecco vi stavo dicendo appunto che nel nostro piccolo cerchiamo di fare tanto ecco siamo sempre in movimento siamo sempre alla ricerca di tessuti anche nuove di aziende nuove oggi per dire Gabriella ne è testimone avevo appuntamento con un'azienda nuova di tessuto ma per lei visto che aveva questa questa voce afona ho detto no no arrivo sicuramente un po' di supporto però dai è migliorata è migliorata un pochettino grazie anche a questa cura che sta facendo e via ritornando a noi prezzo vestito 99 parlo un secondo di questo fantastico tessuto che ormai tutte amate tutte quante amate a che arriva aspetta un secondo aspetta che finisci di spiegare questo non riesco a stagliare la giacca con i braccialetti rovescia fai come faccio io non ti tiro niente no 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 ok ok questo era per farvi vedere i fiori e la stampa di questo abito che è meraviglioso ok il fiore grande ovviamente va a battere diversamente anche sul coropino in base a come viene steso al momento del taglio per cui magari vi ritrovate il fiore grande qui qua magari vi ritrovate il bianco e anche o viceversa o magari qui sul fianco vi trovate il disegno più grande tutto dipende da come viene poi inserito il modello durante il taglio questo per spiegarvi un po' quello che è il mio lavoro ritornando a questo tessuto che è il tessuto che avete apprezzato in assoluto quello che vi piace più di tutti per gli abiti e per camice barra bluse perché vi piace primo perché non si stira secondo perché ha questa manupesca definita manupesca qual è il trattamento della manupesca perché penso che sia una cosa molto interessante da sapere viene utilizzato un macchinario dopo che la base neutra viene stampata viene utilizzato questo macchinario che dà uno strato che dà questa proprio mano saponata tecnicamente la chiamano così questa mano saponata che dà l'effetto manupesca questo è in più su questo tessuto pensate quante lavorazioni si sposta addirittura di regione in regione e va in un'azienda dove viene fatto l'antistatico perché non tutte le aziende lo fanno questa cosa l'antistatico lo diciamo sempre in alcuni capi non c'è stato esatto perché si 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 perché non tutte purtroppo non tutti i tornitori ci danno la possibilità di fare questo trattamento questa è un'azienda che veramente io amo perché ha tutti questi tessuti facilissimi benissimo allora due messaggi una Franca perché sono due Franche oggi compie gli anni quindi tanti auguri a Franca auguri a Franca e l'altra Franca scrive io sono alta 1,58 è troppo lungo questo vestito per me allora sì io sono alta 1,69 tu? io sono 1,70 sei cresciuta? da quanto è? il 67 è il 68 guarda che i centimetri sono importanti ecco la non so che mamma io sono maliziosa no io pensavo davvero all'abito allora tesoro tutte lo chiedono sempre se fosse sempre e io chi sono? gioia vieni ma amore e io chi sono? scusate ne avete fatte 3 di fantasia una per una ma dai bambole ma che non mi sento non lo sapevamo che sorpresa surprise wow questa è una serata una fantasia brava Simo e non ci ha detto niente cioè non si fa così no invece ogni tanto ci voglia no nel senso allora vai avanti indossa anche qualcos'altro visto che non l'hai indossato te allora l'ho messo io basta no chi ti guarda qua no no non l'ho indossato perché sei in diretta con noi certo ma l'ho indossato perché poi lo andavamo a prendere perché 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 io è da catta da quanti giorni è che voglio indossare questo parecchio cioè continuo a dire ero al mantò ero al mantò ero al mantò voglio indossarlo voglio indossarlo per far vedere le nostre amiche sei bellissimo amore mio per far vedere le nostre amiche come si cambia sono la stessa però prima mi sentivo una gitana adesso non lo so che cosa mi sento mi sento gabriessa e punto e basta però mi sento femminile questo lo posso dire vi lascio mamma e figlia brava brava vai a fare il cambio ciao allora guardate hai una notizia da dare alle nostre amiche che bella che sei con questi ho finito con le notizie che hai detto che prossimamente su questo schermo magari chiameremo Marina a fare le morbidose eh sì si è messa in testa di uscire a camminare tutte le sere speriamo lo mantenga quindi vedremo la nostra Simona in versione slim speriamo comunque che taglia indossi di questo abito la di questa la più grande la giacca 52 perché non c'è la 50 va beh va benissimo perché guarda scusate posso le nostre amiche quando si parla di bengalina adesso saltano i botoli bang 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 ho provata la taglia di meno però mi segnava sotto sulla pancia allora ho messo quella qui vabbè allora devo dire che l'abito è perfetto devo dire anche che tu avevi più di una 54 negli ultimi tempi di conseguenza quando io dico che veste bene qui abbiamo ancora un bellissimo agio sul seno e guarda quanto agio abbiamo ancora cinza dita sul seno e volendo anche qui poi dipende le misurine come siete 99 euro la metodissima devo dire che ti sta anche molto bene Simo ma vedi come ti torsono dai cicerina abbiamo i saluti del rapallo Mirka scrive ciao bellissime tutte e tre Simona con il vestito ti sta benissimo bacio a Gabri è rinata da un'ora a questa parte Mirka è rinata vedi sarà facendo effetto non so che cosa poi anche Simona scrive Simo sei bellissima ti sta davvero molto bene questo abito e giacca a nostra grattarola adesso vado a farvi vedere magari anche cosa possiamo mettere qui sotto perché io vi dico sempre che in questo momento questo abito poi l'ho reso elegante con il fiore che possiamo andare a togliere è vero Simo possiamo mettere anche a te il fiore se dovesse andare in matrimonio metterò il fiore d'otto che ci sta pure bene poi c'è Donatella che vuol sapere buongiorno perché non fate uno scimisente su tuo jeans risponderà Antonellina risponderà Antonellina su questo è qui apposta e quindi vediamo cosa dice comunque bellissimo è proprio una seconda pelle e abbiamo 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 dove ho messo tutti gli altri colori ah sono lì tieni un secondino mi provo a prendere posso Cate? perché 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 io non so non saprei quale scegliere Lilla orchidea nero è una bella lotta una bella bianco che io amo e che non solo amo io tutte perché Antonellina è sempre venduto tantissimo il bianco e cioè non so se lo vendo solo io ma non so se anche per te il magazzino è una cosa cioè io il bianco dalla 40 che è quella che indosso e mi sta pure morbida alla 54 cioè quindi voglio dire questi sono i colori di questo abito a 99 euro non so se l'avevo detto ora tocca a te parla tu io quasi quasi è il momento in cui hai alto parlo io alto vieni che ti hanno chiesto lo scimiser di jeans non sei nulla spiega spiega mi hanno chiesto perché lo scimiser di jeans spiega il tuo outfit e poi se vuoi mettiti il giacchino jeans sopra bianco che è lì così nella taglia un attimino più grande così lo fai vedere considerando che hai sotto lo stivaletto nero non è in porta però loro si immaginano con la calzatura clara di tuoi prezzi spiega il tuo outfit e io con tutto questo ambaradan qui me ne vado questa pochette non mi ricordo cosa costa le abbiamo lì credo c'è ma 69 ecco 69 euro ed è in pelle è un bijou alla catenella dentro alla tracolla a tutto Susanna scrive ciao bellesse qui si sta al sole ci si abbronza e invece qui non si può stare al sole perché c'è anche un'aria gelida aggrandiato qui dalle nostre parti se lo vuole rendere elegante sì quindi bimba adesso ciao vi saluto 99 euro i colori sono questi raffaella bellissima simo gragnocca raffaella fai vedere tutta la fantasia forza coraggio ragazzuola forza amore stai benissimo le scrivi tu con questa fantasia come la vedi che colori sono lilla lilla che tipo di di rosa con una punta di lilla esatto corallo ok sì questo bordeaux sì è sul è un panno sul nostro bordeaux e un panna di fondo bellissima un po' astratta un fiore un po' astratto direi che ti sta proprio bene tu stai bene col colore lo porti poco però stai bene eh non porto niente piano piano anche lei si abituirà lo porto niente no dai non avevi preso un tagliere per vinca sì per il bambino eh dai adesso trasforma l'abito con giubbino di jeans fantastico che bellissimo tra l'altro questo giubbino vedete come cambia naturalmente pensate una calzatura chiara adesso lei ha lo stivaletto che ha voluto binare la giacca però guardate come cambia l'abito come cambia tutto eh e stai anche molto bene col panna perché sei scura di capelli come la tua mamma e stai veramente molto molto bene questo è un altro modo per portare questo abito il giubbino di jeans anche perché magari esatto qualcuno di noi preferisce l'articolo il capospalla più sportivo piuttosto che la giacca corta lunga eccetera e qui c'è tutto c'è anche quello ok e così potete fare l'abbinamento sulle tre fantasie anche con questo giubbino di jeans bene è piaciuto quindi l'abito perché si no questa fantasia mi piace mi piace sono proprio contenta contenta che tu l'abbia anche indossato così hai fatto vedere le nostre amiche chiedevano ne hanno fatti tre apposta per forza uscite ma non ce l'ha detto niente perché lei è così se gliel'avessimo chiesto ci avrebbe detto no subito avrei tontognato tutto il pezzo sì sì è così è vero quello che dice anzi avrebbe brontolato tutto il tempo e invece non ce l'ha detto niente lei se l'è sentita ed è arrivata da sola fantastica bravo Simo mi piace come si dice in dialetto mi piace ciao ciao guarda ti do anche questo Simo se non ti fa niente così appoggio qua le altre cose cosa volevo farvi vedere ho preso anch'io quello davvero sì ottima scelta questo abito nell'altra fantasia la Gabri quella col giallo e l'arancio l'ha già indossato ve l'ho riproposto sempre da vedere con le sneaker perché guardate che è un abito fantastico non sapete veramente di averlo indossato e quanto è bello grazie a questa arricciatura sia davanti che dietro che nasconde un po' quelle che sono le nostre forme e che aiuta a migliorare tutto quello che è la nostra figura in questo caso ho abbinato il giacchino bianco e faccio il richiamo delle scarpe il bianco c'è anche nella fantasia ma attenzione è che se avete un sandalo nero la schiava piuttosto che altro la ginnica nera piuttosto che bianca potete abbinarlo chiaramente anche con il nero e va a riprendere quello che è tutto il bordo della scollatura e il punto vita questo giacchino in ecopelle tulle l'avete già sperimentato perché di solito ogni anno presentiamo un modellino nuovo ma lavoriamo sempre con questi due tessuti questo tulle è un tulle di viscosa particolarmente morbido elasticizzato soprattutto per le fastidiose come la signora che conosciamo si si presenta come la signora che conosciamo vieni qui qui presente e quindi è una è una coccola sto giubbino è fantastico da da far paura come questa camicia è questo tessuto è sempre la stessa azienda allora ragazza so che ti ha conquistato ti ha rubato il cuore questo tessuto si perché lo sentite è poliestere assolutamente una parte di percentuale c'è ma scusate è un poliviscosa ecco poliviscosa questo è un poliviscosa ma se voi se io vi dico che non lo sentite addosso e non sentite non fa sudare non fa sudare non fa niente io ho tenuto l'abito che indossavo prima ho semplicemente aperto ovvio che qui sotto mettiamo il calzone a sigaretta che non ho in casa la mia taglia in questo momento dobbiamo fare i riassortimenti abbiamo fatto tutti i riassortimenti ma non possiamo riassortire tutto voi sapete che è vero è vero comunque ragione Ale ci vorrebbe il magazzino qui sotto ok ma tanto in un giorno ragazze oggi non partono i pantaloni sbragati per alcune di voi perché arrivavano alle 11 e mezza non potevo salire troppo tardi quindi non li ho caricati ma domani arriveranno e questo calzone che è quello a pantapareo tra le altre cose di solito metto la 42 ma ho indossato la 40 andrebbe bene anche così anche se io di questo porto la 42 per dirvi che sotto questo rotmanteau potete prendere e mettere anche un abito cioè scusate un altro pantalone diverso un pantalone un pantalone a sigaretta un pantalone a zampetta o questo perché è molto bello anche questo quindi nella versione diversa possiamo anche così oggi visto che non facciamo il giro in negozio facciamo vedere tutti i nostri capi e potete scegliere siamo qui apposta e ecco questo era l'abito è l'abito uguale a quello bianco questa è la camicia collo sportivo 59 euro cioè 59 euro una camicia così tra le altre cose con questo polsino così sai che l'hanno amata tantissimo la manichina a tre quarti ma in realtà la porti tutta estate inizio in primavera la porti fino a agosto ho fatto vedere l'altro giorno portarla aperta sì non posso farlo anche adesso non sono esibizionista capospalla intendi sì tipo sull'abito che indossi tu ok oppure qualora io mettessi una canottina qui sotto anche una t-shirt ma anche una maglia così che è molto molto bella magari senza maniche non sono non voglio fare esibizionista però portata aperta io sotto ho il mio body sapete quello a 43 euro e possiamo per dire fare anche così guardate che bello è portata così proprio a modi giacchina a modi copri tutto vogliamo metterla su una camicia aperta c'è 59 euro questa c'è color come so possiamo dire è un verde acqua molto delicato un colore pastello esatto e nera sono solo questi due colori sono rimaste queste quindi la possiamo portare aperta la possiamo portare scesa così la vedete come 30 euro la maglia che vi ho mostrato o potete fare l'inverso una magliettina appunto 30 euro basica da mettere con il pantapareo e poi prendere questo bellissimo ronmantò decidere se portarlo a modi abito come ho fatto prima oppure portato sempre bello questo abito fantastico e poi è bello ti lascio da sola sì posso lasciarti da sola sì anto solo una cosa ricordati di rispondere che donatella mi ha riscritto un'altra volta per sapere se fai uno sciemese in tessuto jeans scusa no al momento non è previsto al momento non è previsto poi vi dirò una cosa ragazze ho trovato questo tessuto due secondi poi vado ho trovato questo tessuto che si lo chiamano ti ammetta però non è elasticizzato siccome che la conosco molto bene se arrivo con un articolo che non è elasticizzato non lo prende in considerazione per cui arriverà il giorno che trovo il fornitore che mi fa questo benedetto tessuto elasticizzato perché sto ribaltando il mondo lei sa che vediamo spesso anche fornitore ti dovrebbe anche il tessuto dei jeans ma fatto così sarebbe bello anche io lo avevo e credo di risalire a 30 anni fa perché io ne ho uno e te lo farò vedere ma è fermo ce l'ho il magazzino quello là io ce l'ho ma è fermo no il tessuto fermo non andiamo da nessuna parte perché poi è difficile nelle vendite perché poi le nostre amiche chiedono 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 ma quando cominciano a girarmi le loro misurine è difficile io adesso andrò a indossare una come lo chiami tu il tessuto lì della tuta quello lì tecnico il tecnico il caditecnico il caditecnico che è un tecnico che è leggermente elasticizzato ma ragazze di che cosa dobbiamo parlare parliamo di queste cose è un altro tessuto proprio parliamo di queste cose cioè secondo voi perché io indosso la 40 di questo calzone e poi adesso ti svelo una cosa che non ti ho mai detto ma sapete la difficoltà che abbiamo a trovare i laboratori che cuciono i tessuti stretch perché nel cucire il tessuto stretch va e viene è difficile mantenere quello che è la linea del capo e quindi a volte brontolano eh sì però ragazzi questo è però sono i tessuti migliori per noi io questo dico vado a cambiarmi vai tu e poi abbiamo Marina che dice domani la mia Giada compie 14 anni vi abbraccia forte e le fate gli auguri tanti auguri auguri Giada poi magari verrai e ci vediamo con calma che dice amore due secondi che spieghi una cosa allora lo cambiamo io va bene ok volevo finire questo giacchino meraviglioso che potete portare un po' con tutto anche sopra la gonna a palloncino con una t-shirt poi ve lo portate la sera se fa freddo eccetera ma guardate che questa manica è stata creata apposta così perché chi volesse portarlo con la manichina più corta in estate diventa come una mezza manica con il nodino di lato ok e non si stropiccia perché è talmente morbido questo tulle che nel momento in cui lo disfate e lo fate ritornare con la manichina tre quarti a punta vedete non si è proprio mosso per niente ed è molto molto elasticizzato è una retina c'è chi lo chiama tulle chi lo chiama retina è una retina particolare si fa fatica a trovare nei colori perché altrimenti avremmo fatto cose fantastiche prevalentemente la troviamo nel bianco e nel nero speriamo che anche questo fornitore aggiunga la marcia in più per poterci dare la possibilità di fare dei capi altrettanto meravigliosi e lo utilizziamo sia in questa stagione ma anche l'inverno per degli inserti con le copelle ti ricordi Cate avevamo fatto una magliettina bellissima e lo consiglio lo consiglio perché è quel giacchino che ha il pezzo di manica che vi torna utile anche in estate la sera e ritornando invece a noi e a questo gilet che abbiamo proposto scontato che è piaciuto non tanto di più oserei dire di più eh Cate in 4 5 colori chi è più veloce lo piglia come si dice li ho portati un po' li ho portati tutti io in magazzino ragazze non ho più niente sappiatelo sono tutti qua ok ho visto ne abbiamo di disponibili qualcosa di disponibile c'è ovviamente non ci sono tutte le taglie chi prima scrive prima alloggia ciao Nerina ciao Nerina mi prese il tuo giacchino ve lo metto qui sopra grazie messaggino per te questa è la famosa tutta inca di che dicevamo prima che il tessuto è un po' un'altra cosa insomma non è elasticizzata e se la facessi 42 e se la e se la stavi dicendo se la facessimo se la e se la facessimo vai col bianco in crepe ormai è tardi perché adesso arriva la stagione però a settembre con la sua giacchina sopra se io ne tengo una devi se la vuoi devi tenere e la facciamo in crepe che secondo me verrebbe stupenda bella guardala vedete come cambia serata elegante pronte quando arrivi a casa la bottiglia la triccia la lavavano la triccia se io la dovessi mettere con una ginica un giubbino gin sopra non diventa nemmeno più elegante questa tutta 89 euro dalla 42 alla 48 c'è così e c'è color orchidea bellissima che dica non era cambiarti tu che intanto o c'è qualcosa no o c'è Fabio che ci saluta ciao Fabio poi c'è la nostra Simo Gratta Gratta che scrive amica mia tu sei una donna veramente particolare senza età e meravigliosamente metamorfica bella col ogni outfit agrodolce sempre giusta croccante fuori e morbida dentro come la pubblicità di un idraulico qualsiasi non posso Simona sembra che ci siamo messe d'accordo ma questo esce dalla tua anima dal tuo cuore dal tuo tutto cioè non lo so ma che descrizione meravigliosa me la rileggiate aspetta che sto rispondendo Angelita mi piace questa cosa mi piace mi piace adesso torno su mi si gira il telefono vedrai mi piace facciamo vedere anche questa borsa che è stupenda vabbè non ha niente a che vedere con quello che sto indossando ma mi piace mi piace mi piace mi piace quanto costa 49 euro meravigliosa all'uncinetto leggermente rigida si al punto giusto al punto giusto come dice Kate come apprezza Kate ma sapete che nel prendere in mano adesso mi è venuto un ricordo pazzesco Kate eccola là sono qua con i ricordi di quando ero piccina eh sai cosa c'era in casa di mia nonna nei miei genitori non lo sai adesso ve lo dico subito e viene in mente tipo il cestino no 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 non toccarla allora e poi l'ho fatto anch'io praticamente poi vi dico cosa ne facciamo di queste bellissime cristalli ehm il copribottiglia voi non ve lo ricordate era solo una cosa della mia famiglia non credo allora un cilindro fatto all'uncinetto tutto appunto ventaglietto il punto alto che so che ho fatto si fa la base a punto alto e poi si sale girando intorno e mi è venuto il flash vedete questo il punto alto quindi faccio tutto così ok è presente le bottiglie in vetro praticamente questo rivestimento giusto per metterlo in tavola con un attimino di decoro ma cos'è che mi piaceva tanto che mia mamma e credo anche mia nonna mi è bastato toccarlo così lo irrigidevano con lo zucchero, sta scrivendo Laura vai Laura, grande nel sentire così questa borsa mi è venuto in mente questo ricordo avrò avuto se no sei anni, sette anni e da otto anni poi ho cominciato a usare l'uncinetto nel sentire così, sì mamma non è ancora finita non lo posso fare con la borsa ma io praticamente cosa facevo quando giravano questi chiamiamoli cestini, copribottiglie essendo inamidati con lo zucchero li succhiamo tutti perché erano goncicate ma che ricordo che vi è venuto in mente toccando questa borsa cioè non lo so amiche mie sarò proprio fuori, non lo so però è troppo bello quello che stiamo facendo faccio vedere i colori disponibili sì sì è troppo bello quello che faccio con voi amiche mie perché cioè figuriamoci se io mi sono preparata a una roba del genere assolutamente no dal messaggio della nostra adorata Simone così guarda quando ti descrive mi fa così così so che Simone sei e chi legge il tuo nome lì sai perché ok quello che vi dico sempre essere camaleontiche che bello cioè io mi sento bene da gitana mi sento bene classica mi sento bene sportiva mi sento bene elegante perché credo che comunque sotto ogni aspetto sprigioni comunque una certa femminilità e questa secondo me è alla base di tutto togliamo il fiore potete anche prenderlo e fissarlo qui alle alle caramelline e usarlo come oppure non vi piace fate senza se volete mettere una cintura un pochino più elegante potete mettere questa vedete aspettate che ve la faccio vedere ecco come diceva Antonellina usciamo una sera con questa con questa tuta scegliete se volete mettere caramelline se volete metterla pulita perché merita portata anche così avete visto lo scollo com'è giro collo mi raccomando Kate è giro collo quindi io sono fastidiosa ma questo giro collo qua me lo sento proprio bene 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 così come mi piace mi sento benissimo questo taglio sul decollet bella perché morbida bella perché ha la tasca bella perché ha tutto l'unica cosa che non è un tessuto rasticizzato quindi 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 indosso una 42 ma attenzione perché mi tira già anche sul seno fianco e vita vanno benissimo non so quanto ho adesso di misura comunque tornando a noi coprispalle a 69 euro avete visto che è magico e ci facciamo qualsiasi cosa tanto io qua sto facendo tu non hai fatto ah si il gilet l'hai fatto vedere amore mio si all'arancio si si e che dire le nostre caramelline sono stupende ragazze potete decidere di togliamo questa cintura a 20 euro stupenda e meravigliosa elasticizzata facciamolo ne abbiamo tantissime chiedete su whatsapp e vi gireremo tutte le foto avete voglia di portarla così prendete un nastro lo fate passare da parte a parte lo hanno date io adesso non mi sono preparata e queste bellissime 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 caramelline possono servire anche a fare una bellissima cintura sono fili da 8 euro scegliete a voi cosa fare come abbinarle mi viene voglia anche di indossare questo qui sopra perché voi continuerete a pensare che io ve la meno con questa situazione qua antonellina tu ogni tanto sorvoli di far vedere queste cose che io apprezzo che amo in particolar modo perché dico cavolo sono soldi che hai investito vero o no è un lavoro mi dici sì ma dalla collezione precedente ragazzi ma 49 euro io devo guardare avanti giustamente eh io devo vendere il tuo dietro caspita questa cosa è interessante no aspetta specifiche perché c'è arrivata in ritardo no 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 c'è arrivata in ritardo è arrivata prima la casa certo lei arriva sempre ci impegno eh ma no scusate come si fa a proporre questo articolo capisco che tu lo lasceresti lì ma ragazzi ma questo articolo qui è magico questo articolo qui lo portate con tutto sì poi su bianco e nero cioè dai io veramente perché ho l'altra fantasia fatto uguale perché poi ogni tanto cambi gli articoli 49 euro invece di 129 decidete voi e intanto che sono andata a prendere questo hai preso i colori cioè ho cambiato ho cambiato caramelline cosa ho impiegato un nanosecondo cioè un nanosecondo le vedete ho aggiunto il bronzo ho aggiunto il beige ho aggiunto altro cioè cosa dico ho ancora la tuta da 89 euro che avevo prima anche volendo eh cioè ditemelo voi 49 euro 42 qualcosa abbiamo ancora di questi fino alla taglia 54 che veste una 56 io non lo so non lo so ecco questo ad esempio è un tessuto tecnico ma il modello permette di vestire una taglia in più sì perché è morbido con le tasche ma 49 euro ma adesso Antonella neanche questi bordi costano 49 euro lei sa comunque un po' i nostri costi quando vi dice le cose è perché realmente è così però giustamente noi a un certo punto dobbiamo ci dobbiamo ma io a vedere di guardare avanti ma io a vedere di queste cose e poi tu sai che noi non abbiamo proprio non è nel nostro modo di fare se della collezione prima è la collezione vecchia lo scontriamo è per quello che ci penso io a differenza di gente che magari la riproponono a pieno prezzo il negozio sì sì questo devo dire Anto che la correttezza di queste cose lo dico sempre grazie persino quando vendo i difettosi ma tu lo fai Antonella che io ho venduto i difettosi e li ho smacchiati io e li ho mandati alle mie amiche senza difetto sì sì invece tu sai che noi là abbiamo l'angolo dei difettosi ho capito ma io li ho smacchiati e li ho mandati mi togli il segno di birro io con l'alcol tolgo e quindi ho mandato via una camicia a 20 euro alla nostra Susi pensate a che affari state facendo ma io dico sempre la serietà se c'è una piccola macchiorina può anche capitare che non la vediamo però c'è un bottone adesso però passa attraverso loro li prendono e li mettono da parte questo non è difettoso ma 49 euro sono della stagione precedente 49 euro fatelo vostro anche perché se ci fosse un difettoso saremmo noi per primi a dirti guarda che questo come sempre alla macchia o gli metti allo stile se lo vediamo io non ho mai visto persone così precise se ci sfugge male ci sono dicono loro eccetera che taglie hai lì gabri di quello? tanto lo chiedono la 42, 44, 46 e 54 in magazzino erano le stesse sì avevi le stesse in magazzino amore? no no vado io tanto si riesce ad aprire niente cosa vi ho proposto? questo abito portato così portato a tunica per chi? per le nostre amiche quelle alte che non amano che si veda troppo la gamba quindi guardate quanto è carino portato anche così cinturato potete mettere in questo caso io ho scelto questa non avevo altro però potete mettere anche una cinturina meno vistosa più bassina che va a battere sulla prima ricciatura del capo che ve la va un po' a nascondere e diventa praticamente un abito tunica sotto ho il pantalone e sigaretta in bengalina avete un leggis bianco? va bene lo stesso che problema c'è? in questo caso io ho la bengalina con lo spacchettino vedete che carino a me poi sta anche di questa lunghezza perché non avevo la mia taglia in magazzino e ho preso una taglia in meno per cui mi sta quell'attimino più corto però generalmente arriva sopra la caviglia ok? e che cosa gli ho abbinato sopra? il magico gilet in questo caso il verde lime che riprende l'abitino e guardate quanto è carino anche questo completo ho portato così sempre in maniera sportiva per chi non ama e non porta quasi mai i tacchi abbiamo comunque oltre alle sneaker ovviamente verso la bella stagione si inizia con i sandali infraguito e tutte quelle calzature che ci vengono molto pratiche ok? io vengo apposta per far vedere anche tutti questi abbinamenti in maniera più casual se vogliamo questo gilet fantastico a 30 euro si può anche abbottonare proprio un bottoncino piccolino vedete che grazioso perché anche gli accessori li seguiamo in maniera particolare a volte mi arrabbio perché non trovo quello che ho in testa però ci provo ogni volta bisogna dire cara Antonella si che con questo capo a 30 euro che costava 79 euro andiamo a valorizzare un abito appena uscito a 99 euro capite? cioè voi lo abbinate insieme possiamo far vedere scusa il discorso ecco stavo finendo e stavo dicendo che qui sotto in questo caso non ho messo di proposito la sua sottoveste perché questo abito io vi dico che anche come copri costume forse l'ho lasciata in camerino sai ora che l'ho già detto la storia del copri costume si che quando le nostre amiche andranno praticamente al mare siamo sempre sulla stessa onda e vorranno sì sì siamo sempre in sintonia perché io l'ho messo opposta senza sottovestina per far vedere che poi non è neanche così trasparentissimo ma vogliamo parlare di questa sottovestina che è esattamente il tessuto della maglia che indosso esatto è un abito a tutti no perché qualcuno spiega lo tuo ha detto che 99 euro lo trovava caro ragazze mie vi dico una cosa questo abito lo pago due volte perché mi fanno pagare la confezione di questo da solo e la confezione di questo da solo poi questo abito con tutta questa arricciatura praticamente arriva quasi sui tre metri di consumo e sono tantissimi per un abito di questa lunghezza cioè ha il consumo di un abito lungo questo abitino perché è tutto molto arricciato 69 euro il prezzo modico per essere tutta doppiata per avere perché poi spiego anch'io no? la canotta sotto che arriccia che comunque fa questa dalla 40 alla 54 a 69 euro ok? cioè vogliamo dire tutto come dicevi tu tre metri di tessuto ma lei indossa tutte le rugge questa è una 40 ecco arriva fino a taglia 50 ok? e sotto ha il suo e guarda il particolare abbiamo lasciato un pezzettino di spallina in più nel caso in cui una magari ha la spalla un pochino più ampia eccetera perché se l'Oriente è diversamente esatto l'Oriente è diversamente non ha la spallina che tira e che quindi si può lasciare andare col tempo e c'è il pezzettino di spallina in più facciamo la mia parte che mi spetta più commerciale di capo 99 euro ora 30 euro questo? sì vogliamo dirlo? cosa fa? 138 euro guardate qui no 129 mi rendete conto? mi rendete conto? fate la proporzione costava 79 euro solo il gilet quindi? un'altra cosa un altro esempio questo abitino più corto consuma tanto quanto il primo abito che vi abbiamo presentato super giù il primo? sì capisci se quello lo vendiamo a 99 questo viene venduto a 99 con lo stesso consumo di tessuto in più sotto la sottoveste in jersey che viene considerata un secondo abito è giusto spiegare queste cose posso dirti portato da solo era una cosa ma completato adesso tu hai il calcione sotto ma ragazze l'avete visto indossato a me nell'aggiurro quindi perché sono tre ho detto per le alte ho detto chi non ama magari far vedere il polpaccio ma portato abbinato col gilet è una cosa fantastica poi lo stesso tessuto gira e gira quindi bene se vuoi cambiare intanto descrivo allora abbiamo cinza che chiede se qualcuno può indossare il giubbottino lì con le perline di jeans ma qui sta venendo nero ma prevedono pioggia oggi non so comunque donna palloncino meravigliosa più contenuta di quella della stagione precedente quindi lineare segue le forme bella in bengalina la sua giacca sopra indosso una taglia 40 di tutto che dire questa giacca oggi Antonella è arrivata con questo blazer nel blu vestita con il jeans e vestita con una t-shirt sotto quando fate questi abbinamenti potete fare tutto quello che volete io me lo indorso a me è un po' grande ma neanche perché adesso stanno andando in linea quelle forme sì per me questo è grande bisogna dirlo lo vendiamo dalla 48 alla 52 vero cassa sì lo ho indossato anche Simo indossato esatto quindi lo puoi vedere indossato perché è bellissimo poi se tu mi dici Gabri porti tutto sì io prendo e porto tutto perché lo porterei così girerei la manica e come vedi quindi lo porterei anche in maniera dinamica perché alla fine questi articoli oversize come delle camicie che abbiamo lì che oggi non abbiamo tolto come gilet come giubbini di jeans che hanno il polso più stretto e sono da portare così cioè che dire se no che è una meraviglia poi abbiamo una petalina buon pomeriggio mi dolci petaline che bello potete vedere in diretta vi voglio bene bella questa cosa no poi bello anche il fatto che riesco a parlare quindi la vostra Gabri sta uscendo dal tunnel dobbiamo ringraziare anche le amiche sono un sacco di messaggi di a Gabri consiglia e ti scrivevano le medicine da prendere guardate si tratta di diagnosticata quindi proprio la ringite quindi metodi naturali mi aiutano ma ho dovuto iniziare subito con l'antibiotico altrimenti oggi non sarei qui quindi grazie dopo io vi leggo vado a vedere se ci sono dei consigli come una tisana che mi è stata consigliata si la rosa canina con lo zenzero devo dire anche ho provato a farla buonissima comunque ragazzi che debbo dire poi vi leggo con calma sapete che per tutto il resto dovete scriverci su whatsapp mi raccomando perché ci dilunghiamo dilunghiamo a volte magari omettiamo cate di dire dove siamo a Villa Carcina a Provincia di Brescia a Barabam c'è il negozio che apre dalle 9 alle 12 dalle 15 alle 19 non avevo più la voce comunque tornando a noi bengalina giacca nera gonna 59 euro 99 euro cosa vogliamo dire sapete che la vostra Gabby piace portare le cose o infilate o comunque annodate che dire di questa maglia stupenda sapete che sotto il nostro body è 43 euro nero che anche se si vede allo stallino va bene così indosso questa maglia che è una taglia 40 ma che dire viscosa come la sottovestina che vi abbiamo appena fatto vedere che sarebbe il sottoabito quindi potete anche capire com'è trasparente vi dico sempre non mettete il bianco sotto al bianco perché diventa un doppio bianco vi faccio vedere cosa intendo se io prendo questo è bianco lo vedete il doppio bianco che effetto fa lo vedi Antonellina sì certo perfetto quindi doppio bianco no piuttosto il nero che vedete che fa quasi la stessa tonalità con la pelle e il body se lo mettete con il nude addirittura non lo vedete e lo abbiamo anche nude ma se vi capita come me oggi di indossarlo nero che dire se no che è una meraviglia tutto quello che vi facciamo vedere con il cuoricino puf 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 dalla 40 alla 54 ok 49 euro o no sì 49 49 59 la fantasia perfetto 49 euro 59 euro e 99 euro fatti vedere ecco cosa vogliamo dire altro abbinamento per questo gilet fantastico adesso con questo gilet a 30 euro venderemo le casacche i pantaloni gli abiti e tutto quanto perché questi che sono della stagione precedente sono il completamento di quello che stiamo proponendo quest'anno cosa vogliamo dire che quando hai un capo gabriesse o medimbrecia nell'armadio non tramonta mai assolutamente è intramontabile guardate che questo colore è stato fatto l'anno scorso questa è nuova l'abitino di prima è nuovo certamente dalla 40 alla 54 vuoi ricordare? certo e parlando sempre di fornitori perché questo è anche fa parte del mio lavoro abbiamo un fornitore che comunque è vicino a noi perché è di Verona dove questi colori noi puntiamo molto su di lui perché comunque ci dà la continuità la sicurezza di poter lavorare con i soliti tessuti che preferiamo che ci danno comunque anche una realizzazione dei capi impeccabile a volte e per cui quest'anno ha ripresentato anche questi colori vuol dire che quando un colore di tendenza per qualche stagione prosegue questo è importantissimo saperlo perché a volte si dice ah ma qualcosa l'ho visto anche la stagione scorsa no viene ripresentato tipo vi faccio un esempio il viola no ed è la primavera scorsa che sta andando ci sarà anche quest'inverno quindi noi seguiamo sempre comunque abbiamo questi fornitori che ci danno l'input scusa hai già un'idea dei colori invernali allora ho visto un paio di aziende sì la terza doveva venire oggi l'ho rimandata brava l'ho rimandata perché ci tenevo ad esserci e quindi sì ho già visto però va bene parleremo più avanti adesso siamo qui sul pezzo sta arrivando l'estate parte oggi che mi sa che sta arrivando qualcosa di brutto mi sa che sta arrivando davvero sì sì temporale brutto mi sa però anche le sfumature del rosa adesso vi racconto questa piccola cosa domenica mattina io di solito vado al bar con delle amiche a volte ci sono i mariti a volte non ci sono vabbè siamo arrivate tutte e tre con tre giacche mie tutte e tre rosa ma con delle sfumature diverse e il proprietario di questo bar che ormai ci conosce da una vita esce eccole qua i miei tre confettini perché eravamo vestite io con il completo addirittura pantalone giacca l'altra con i jeans a zampetta una con i jeans bianco ma tutte e tre in rosa Gabri e il rosa ci sarà ancora ci sarà anche lo troverai nella maglieria dappertutto per cui i colori hanno una certa continuità nelle stagioni no? sì capito? certo non è non ti sto guardando sembri chi sei disegnata e calcolata da non so quanti giorni abbiamo messo il completo insieme due minuti fa cioè due minuti fa prima di iniziare il video questo rosa è fantastico il nostro sbagliato sì ma guarda ma guarda la borsa 89 euro più questa a 10 perché a parte mi raccomando ma sembra nata con questa camicia vedete come siamo sempre sul pezzo wow con tutti i colori ricordiamo che c'è anche l'abito assolutamente quello che aveva indossato prima con il calcone c'è con questa fantasia che sta sempre molto bene con questo non perdetelo perché guardate che è un abitino quello che vi porta avanti veramente tutta l'estate eh ti lascio faccio un altro cambio così faccio a vedere due cose vai perché mi sa che tanto questo punto Milano è un qualcosa io non so amo tutti questi tessuti lo so troppo bello vero punto Milano cos'è è un jersey di viscosa leggerissimo perché sembra impalpabile sembra una seconda pelle ve l'ho detto che oggi viaggiavo su bianco e nero o nero e bianco sì magari con qualche accessorio colorato perché no giallo bianco e verde guardate la meraviglia con o senza accessorio a 69 euro io qui sotto indosso questa meravigliosa maglia perché ve la voglio far vedere dalla 40 alla 54 sto ricordando nera bianca blu e verde verde brillante meravigliosa anche se la mettiamo per dire sotto a questo tailleur e poi e poi e poi e poi ci mettiamo la pochette scusate la borsa bianca e verde facciamo tutto il tailleur bianco e come vedete come per magia a 59 euro possiamo cambiare l'assessorio come niente questa maglia che vogliamo dire qualcosa perché la ama la vostra Gabri ah 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 perché a me queste gocce qui piacciono da morire non sono esibizionista ma mi piace mi piace rendere femminile una cosa poi questa è una mia prerogativa che è quella di tante 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 di voi eh qui non mettiamo di tantissime di voi ma pensare di mettere un calzone a 59 euro questo è palazzo ok punto Milano la sua giacca la sua maglia che non sentiamo di avere addosso è quel jersey di viscosa fantastico e meraviglioso questa giacca la possiamo buttare sopra a tutto ma proprio tutto 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 in questo caso perché no possiamo farci un accessorio ma facciamolo ma facciamolo un accessorio che io adoro ovvero il cappello a 20 euro ho ancora una camicia da farvi vedere quella smanicata con il nodo che resto magari vestita così e ve la faccio vedere perché è bellissima credo che Antonellina ce l'ha nel corallo da abbinarvi potrei abbinarvi anche io ma ho deciso di stare su bianco e nero perché è un colore non colore secondo me che dona tantissimo dona tutte le carnagioni secondo me poi quello che volete abbiamo tutto in tutti i colori scrivete su whatsapp e vi diciamo perché abbiamo cinque colori di questo tailleur lo abbiamo col calzone così e lo abbiamo col calzone a sigaretta dalla 40 alla 54 cioè voi pensate di dire ah questo bene questo un tailleur così elasticizzato in punto Milano leggerissimo che si porta anche d'estate si porta adesso si porta sempre dalla 40 alla 54 Martingala non so abbiniamo con qualsiasi cosa vi abbiamo mostrato finora ci mettiamo sopra il nostro sopravvito nero che abbiamo e possiamo in una giornata come oggi mettere anche quello sopra lo faccio vedere Caccia se vuoi far vedere un attimo gli accessori intanto che arriva anche la altonellina in alto tranquilla io voglio vedere se mi sono scondinata i capelli perché con il cappello magari succede anche cappelli a 29 euro sono una meraviglia poi quando arriva la nostra Doni ha di che divertirsi ma questo è il suo diletto vero di mettere via tutte le cose che io tolgo dalla le grucce so che l'avete già visto ragazzi non è una novità ma il tessuto tecnico con quello che sta arrivando qui fuori beh c'è qualcuno di voi che aveva detto che era il sole beh beate voi è Susi sì lo so lo so lo so lo so lo so stai guardando la taglia arrivo subito sì questo è 42 né Nero che me l'han chiesto 40 è finito non devi evitare che me lo vedono in diretta dicono ah Dalloli no 40 Nero questa taglia 40 perché sapete che io metto magra magra allora no è una 40 e d'altra parte se è arrivata magari un po' tardi lo metto anche io nella 40 quindi questo veste molto molto bene in questo caso è una 42 ma perché perché lo sto abbinando sopra alla giacca esatto anche io pensavo essendo sopra quindi però ho agio anche perché è semi elasticizzato di conseguenza questo c'è lilla c'è verde tiffany c'è rosso e c'è nero ok 4 colori 129 euro dalla 40 alla 54 se la nostra amica adesso è arrivata tardi ragazzi c'è sempre una una fine cioè una fine è un principio dimmi capi abbiamo lì ancora una taglia 54 bianca ecco è anche una taglia 54 bianca l'ultimo 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 rimasto questo trench è stupendo cosa stai combinando mi è partito un bottone col braccialetto ah ecco sì no ma tanto si è incastrato sì ma poi diciamolo in diretta a volte partono i bottoni sai che le avevamo fatti riprendere tutti dopo le avevi fatti riprendere ma molto probabilmente qualche pezzo di gilet che abbiamo qui sì erano quelli precedenti che magari non sono stati quindi ragazze non sono ritrovati allora io non posso mettermi lì a cucire uno dei bottoni se per caso eventualmente sì dovesse succedere dovesse succedere cioè quando lo ricevete saldatevi un filo il bottone voglio dire non tutte le ciambelle escono col buco qualche volta e non si sa il perché però almeno mi fa piacere se è successo questo quindi una tonnellina vede in diretta o vede magari quando si indossa una cosa che può succedere nel senso non ha colpa lei non si possa però noi siamo presenti nel senso esatto quando perché non riusciamo a avere i bottoni da mandare alle nostre amiche a parte che Ale mi ha detto di no sulle giacche forse esatto perché è capitato a due amiche che comunque l'hanno perso di loro quando l'hanno indossato e io non ho abbiamo mandato bottoni dorati ma per quale motivo non abbiamo le riserve perché praticamente noi diamo il tessuto a chi ci ricopre noi di solito ne diamo di più e quindi escono i due tre quattro cinque bottoni in più ma nel momento in cui magari il tessuto va a finire io non ho la scorta del bottone ok quindi ragazze è capitato una nostra amica di Torino Silvi ti saluto ne hanno mandato i quattro dorati e chi dice cosa ti devo no figuriamoci nulla abbiamo mandato i quattro bottoni e li hanno sostituiti tutti come se fossero di questa camicina certo quindi adesso bimbe tolgo la giacca per farvi rivedere la giacca dalla 40 alla 54 Antonella questi completi tra la 40 alla 50 ma vogliamo parlare queste forchette guarda anche io ho tenuto il palazzo io ho tenuto il palazzo ho tenuto il sigaretta l'ho preso nero l'ho preso bianco l'ho preso turchese perché effettivamente è un tessuto fantastico non sapete comunque di avere indosso è una cosa fantastica io ho appunto Milano guardate qua e poi ecco questo pantalone addirittura è strutturato senza elastico in vita e tu mi confermi che sta da dio non si sente veramente e non scivola anche della maglia ma questa me la faccio va te pareva non l'ho fatta sono i suoi tre buchi preferiti a te non dire niente muta muta stava per parlare stava per iniziare meglio non dire nulla vado a mettere l'altra canotta sopra perché vi ho indosato questo conflitto perché guardando fuori in primo ho detto mannaggia sto tempo quindi vi ho riproposto il completo in crepe e qui abbiamo il sigaretta lo zampettino con lo spacco laterale sormontato abbiamo qualche gilet chiedete perché ormai questi sono un po' disassortiti in questo caso non è la mia taglia è leggermente più grande però era per farvi vedere che che cosa che sopra questa camicia di cotone che è piaciuta da morire da morire per il suo taglio è un po' particolare ed è in cotone semi elasticizzata anche questa guardate ragazze oltre al comfort del modello perché anche le maniche vedete quanto quanta vestibilità c'è in questo modellino c'è questo taglio che è bellissimo perché perché la parte sopra ha la sua taglia regolare veste bene perché vedete che comunque c'è agio ma tutto si sviluppa poi su un gioco di lunghezze corto lungo tagli in sbieco che danno a questa camicia la marcia in più non è la solita camicina la basica eccetera chi piacciono le cose particolari questa è una camicia fantastica guardatela passava una nostra famiglia cliente graziella alla festa al golf era divina una signora molto raffinata che saluto ciao graziella perché ci segue sempre bene ciao graziella a sigaretta sarà stata sicuramente molto bene stupenda mi ha detto che la lavata che non l'acqua nemmeno stirata perché la lavata sapientemente come insegno sempre io ecco perché i lavaggi veloci con centrifuga bassa permettono comunque di non andare tanto a mettersi libero chi ha voglia ormai di starli a stirare quindi una volta che passi un po' il collo è un altro change ancora sì ancora uno o due dipende dal tempo che abbiamo sì vi faccio vedere la giacca come sta con la giacca questa camicia con questo cono non è piaciuta tanto sì sì no ma capire cioè che tutto questo è un pezzo in sbieco inserito nel centro schiena e che porta ad avere una lunghezza da una parte e dall'altra cioè qualcosa di esageratamente anche complesso nello stile nella creazione nella creazione capite e comunque resta un capo casual chic ha di tutto questa camicia perché alla fine è confortevole innovativa perché la sua linea è anche innovativa cosa che non abbiamo come Gabriele come Made in Brescia che devo dire ricordo ancora quel giorno che sono entrata da te le nostre amiche in mobile non lo sanno scusate se ogni tanto ci ripetiamo in questi racconti però per noi è qualcosa di veramente importante passavo sempre di lì e dicevo non capisco perché era comunque raffinata quella vetrina non capivo se eri un ingrosso se eri un negozio ma sai che ce l'hanno ho detto in tanti perché non lo tengo perché non lo tengo proprio come il nostro ma come negozio e quando ho detto basta oggi devo entrare perché lì c'è qualcuno che mi chiama è stato così io vengo faccio svigo pam 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 avrete detto ma questa che cavolo è neanche ci credo avevo appena iniziato con la nostra grande famiglia sì non ho fatto questo pensiero nel senso che questa che cavolo è non fa parte di me proprio sì lo so però sai che avevo detto mi avevi raccontato alcune cose con altri conditori eccetera qui esco qui prendiamo qui facciamo qui distribuiamo ti arriva dentro una così ti dici vabbè avete detto vabbè devo dirti che a me in quel momento mi si sono aperte altre porte ecco non mi sono chiesta questa chi è no però mi sono vista cioè parlo singolarmente ma parlo a nome anche di Alessandro e di mio marito perché questo pensiero l'abbiamo fatto insieme abbiamo solo pensato a quello che poteva nascere per il futuro certo ed è nato a chi eri tu ed è nato ed è nato siamo così ecco noi poi avevi tanti articoli da scontare tante campionature sì quindi abbiamo iniziato come quando facciamo gli sconti adesso una 30 euro 40 euro cose fuori di testa che abbiamo fatto veramente quanta roba abbiamo una collaborazione speciale oserei dire speciale dopo non pensate guardate che noi ogni taglio ci smetteghiamo anche non pensate che magari lei non è d'accordo su una cosa e dico no io non la penso come te fa niente ma noi comunque poi ci troviamo su altre l'importante è accontentare le nostre clienti e quando dico che i tessuti elasticizzati sono elasticizzati vuol dire che adesso è un gran bene ecco giusto quindi fidatevi anche i tecnici però se guardiamo i numeri diciamo così proprio di là si vuol aprire la Anna Michela vuol sapere che taglia indossi di camicia la 42 e invece Emanuela chiede farete una camicia così ma della stessa lunghezza dai bimba no te lo rispondo io in cotone no ma dai ma che cosa cambia Fredrizia allora questa è la lunghezza della camicia basica questa è la lunghezza che noi di solito teniamo della camicia basica e poi siamo andati a lavorare ma allora non avrebbe senso avere il cono dietro esatto e in svecco non avrebbe senso nulla e dico anche una cosa personalizzate i vostri articoli volete che sia lineare beh mettetela nelle mani di una sarta fatelo voi e la raddrizzate l'abbiamo fatta in passato la camicia basica si li abbiamo li abbiamo nel senso come modellini non l'abbiamo prodotta questa stagione ma li abbiamo abbiamo preferito farne una diversa completamente da tutte quelle che troverete in giro perché poi come vi dicevo essendo anche una realtà piccola esatto una realtà piccola la nostra il nostro prodotto non è intrazionale l'abbiamo detto più volte magari la nostra amica deve metterla sotto un taglio classico ma ci sta bene lo stesso amore mio ci sta bene lo stesso se vuoi ricciarla ricciarla con una cintura ci sta bene lo stesso ci sta bene lo stesso vedete anche questa borsettina che meraviglia abbinata 39 euro giusto sì guarda che è deliziosa veramente deliziosa comunque qui da Gabriès trovate il mondo il mondo il mondo il mondo io non canto perché sono stannata proprio campana non riesco così bella vabbè poco importa il mondo dove da Gabriès in collaborazione con made in Brescia storie meravigliose cosa non mi sono ancora cambiata il canzone di prima a 59 euro a palazzo in punto milano la giacca che indossavo prima la diamo in 5 colori che è detta su whatsapp perché noi adesso stiamo lavorando qui ma leggo sempre sotto dove 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 voglio questa voglio quella su whatsapp i numeri sono fissati lì amori miei ma cos'è che vi sto facendo vedere questa camicia smanicata meravigliosa che dire se non che è una meraviglia bianca nera corallo e due fantasie ieri vi ho messo anche il rail con tutti i modelli dall'inizio stagione venendo adesso e li trovate tutti lì tessuto manopesca io l'ho stretta un timino più in vita per delimitare guardate vi faccio vedere se voi volete portarla più morbida perché dicono diciamo vabbè non voglio che mi segni l'addome la vedete quanto tessuto ho lasciato andare la vedete ok se decidete di aprirla e di portarla aperta tutta così scusate così vedete ci mettete una spillina qui e la lasciate aperta con la punta diversamente la potete anche annodare diversamente la reinfilate e la stringete come ho detto prima cioè la stringete un filo di più dopo di che fate il nodino quindi così evidenziate che cosa è il punto vita di una parte si allaccia adesso non sto ad allacciarla qui sotto la girate e l'allacciate al bottoncino e cosa costa 59 euro si vado a controllare c'è anche bianca e anche corallo me la porto a far vedere così vedete anche la punta di corallo che è meravigliosa 59 euro la camicina sta indossando bene perfetto vedete qui vi abbiamo dato più opzioni di scelta con dei tagliari che sono fantastici anche questo c'è verde anche questo c'è turchese anche questo c'è nero c'è la blu e non c'è più bianco e la finiamo qui aspettiamo che arrivi la nostra antonellina ah ecco ricordiamo una cosa i vestole a 20 euro e queste meraviglie delle meraviglie 59 euro 59 euro il calzone questo ovviamente è il terzo colore 119 euro la giacca che è quella a 7 ottavi con la martingalina dietro quella che indossavo io e pantalone lo abbiamo sia a palazzo che che a sigaretta ok ragazze i nostri cappelli a 20 euro bellissimo anche questo colore borsalino mio papà lo portava sempre sono nata con i miei genitori che indossavano il cappello quindi basta un cappello? basta una borsa? basta scegliere come cambiare un outfit? fatelo bimbe mie dovete solo vi abbiamo dato la dimostrazione con i gilet scontati a 30 euro amore lascia la penderia i vieni perché dobbiamo concludere cicciolina poi sarà la nostra mi stava a scivolare mi stava a scivolare lo so sarà la nostra donna da appendere tutto guardatela ci stavo giusto aspettando aspetta che c'ho il fiocco di qua il fiocco di qua il fiocco di qua il fiocco di qua io l'ho in mano per far vedere che c'era anche di asca la vedete invece guardate anche la lunghezza del top si lo faccio vedere anche io forse dietro si ecco la qua però stavo facendo vedere il fatto di dire i gilet le nostre amiche gilet a 30 euro quando l'hanno comprato il 79 ce l'hanno nell'armadio assolutamente il far vedere come abbinare una cosa in questa stagione con il resto potete farlo con tutti gli articoli che avete nell'armadio ricordatevi io vado che forse ho ancora un change da fare così cosa indosso il trombetta così vedete bene anche la lunghezza calcolata che sono 1,70 e ha questo spacco particolare un pochino più alto del normale con il bottoncino che riprende un po' della giacca volendo fare il completo indosso la 42 chi lo volesse più morbido può portare anche la 44 sapete già come funziona perché questo tessuto stretch vi permette di indossare anche taglie differenti in base alle vostre esigenze più stretto meno stretto e via dicendo e la bellezza anche di questo completo ragazzi lo lavate in lavatrice sempre con un attimo di riguardo con il programma è stato spiegato tante volte il programma breve delle vostre lavatrici ma ve lo lavate voi la giacca la sbattete la arpendete e nel mio caso la stiratina al collo la do sempre perché sono sempre un po' perfettina riguardo al capospalla ma sappiate che comunque se la tirate un attimo la mandate in tensione un attimo tirandola lei viene perfetta se pensate che se la portate lavaggio a secco in tre volte vi siete a momenti comprate la giacca abbiamo detto tutto lavatela voi a casa e nel bianco io addirittura ci metto questi prodotti per tenerli sempre di quel bianco candido diciamo e vi viene perfetta naturalmente qui abbiamo tutti i colori c'è il rosa che ne usavo prima tipo il punto di rosa c'è l'azzurro c'è il verde c'è il nero i blu mi sa che siamo di assortiti ma andiamo al taglio con i pantaloni con cosa? sigaretta e anche trombetta quindi dove manca blu e rosso e anche nero arriveranno quindi se ci fosse qualche esigenza di taglia particolare non resterete senza cosa dire questo completo lo porterei dall'andare a fare la spesa perché io vado anche con i tagliere non vado ci mancherebbe dall'ufficio dal lavoro piuttosto che altro stringiamo ok quindi non fai altri change no assolutamente vi lasciamo così faccio vedere quello che indossavo prima al contrario t-shirt credo 25-29 euro non ho guardato il cartellino ragazzi perché adesso non ho più il tempo anzi facciamo entrare le clienti perché fuori c'è un'area gelida e indossiamo la posso anche chiudere bella chiusa mamma mia quindi potete portarla a te un po' dello stile militare questa si ne è un po' di spagna anche se non ha poi niente di sono questi bottoncini che l'hanno resa e anche il mattingala quanti bottoni sono ve l'ho già detto due tre quattro cinque sei sette cristiana vuoi sapere cosa arriva prossimamente cristiana svegliamo svegliamo man mano dai prossimo giro prossimo regalo a breve rientreranno una tuta in bengalina forse prima l'abito arriva prima l'abito poi arrivano una blusa una tunica poi ci sarà la tuta in bengalina arrivano ancora delle cose come vi ha spiegato più volte lei la famosa capetta che quando arriva con l'erbetta non arriviamo non è che mangia quella lì deve andare là vero? vero? vero 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 non svegliamo niente perché non svegliano neanche a me ogni tanto mi arrabbio ma non lo facciamo di proposito è che magari siamo di corsa non pensiamo che lei non sa cosa sta arrivando ma magari c'è un modello più che un altro papapà perché tu hai tendenza di fare tutte le cose a collate io ho tendenza a chiedere di fare cose a collate quando mai ho fatto le cose a collate d'estate cincillino d'inverno forse perché sai che vado qui in fulare dopo è così io lei siamo diversi se facciamo guarda guarda te siamo al contrario vabbè la tiscia ci sta eh vedi ma mi ha appena detto io non amo le cose scolate a bu non fa niente ma se mettiamo un sondaggio scolata 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 perché io le corromo a scuola le mie amiche certo ma già anche l'abito col quale abbiamo iniziato bello ma bello che poi lo si gestisce no come tutto perché ho un flash ho anche una maglia devo andare a cercare il modello te lo farò vedere con quel collo è bellissimo con le maniche punta e l'apertura sulle braccia ma ecco però questa cosa la possiamo svelare dica metto perché mi spavento io tu mi avevi parlato che arrivavano le famose camicie quelle col collettino con le spalle fuori io sono già in laboratorio ah tu sai che nome ho dato tu sai che diamo i nomi a tutti sai come me l'ho chiamata come? cobra wow capito capito mi hai perché mi ispirano anche gli articoli con il nome quelle hanno chiamate sì lei sì infatti quando andiamo a cercare i nomi e i colori ridete dico sempre i colori no non li metto io duelli però i nomi andiamo da cartella di allora arriverà la camicia cobra quella col collettino yes sarà leggermente diversa perché me l'avevi indicato ho cambiato la manica sì è più pratica ma va bene ma va bene però ragazzi è fotonica io ne ho di tre colori quando la metto pam 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 tutte che la vogliono così tutte 119 euro questa giacca così come il serpente quando li grava è per quello 50 eh allora capiti sembra in sordina la nostra Antonellina qua dicono un bel tubino in bengalina oh mamma e tubino momentaneamente no arriva all'ovetto ragazze sta dietro a tutto sta dietro a tutto difficile ma la mia richiesta è di abiti corti di abiti aderenti in tessuti arrivano eh buongiorno si dovevano già essere qui in jersey con l'incrocio pam 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 scollati pam 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 arriveranno si ha a che fare anche con dei tempi con i fornitori con tante difficoltà non si può fare da avere tutto tante una gonna costa come un abito ma faremo mai un abito a tubino ci vuole che abbia l'arriccio che abbia qui che abbia lì che non abbia niente che abbia pam 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 ma anche un semplice abito in bengalina un semplice abitino in crepe magari non a dama de rentino cioè le nostre amiche c'è chi apprezza che te l'hanno chiesto in diretta quindi e io ritorno a dire ma sai cosa che una parte della modellatura è già stata prevista e quindi quella va avanti si può inserire a volte l'articolo su richiesta ma dipende sempre dal tempo che ci dà il fornitore come consegna e ti faccio un altro esempio questa primavera ci è mancato un colore dove io avevo puntato tantissimo ed è stato il grigio perla e non è arrivato è arrivato talmente in ritardo che non valeva più la pena tagliarlo capisci succedono queste lo si può fare lo si può fare ma purtroppo questa primavera che noi eravamo convintissime di farlo non si è riusciti un tessuto che io vorrei perché lo indosso ora un bel tubino fatto bene in punto Milano in autunno ce n'è parecchio in punto Milano lo trovo eccezionale questo tessuto e poi ti svegli una cosa dopo indosso la 40 del calzone non so di averlo indosso ma sembra una mano tipo seta è una cosa pazzesca questo è proprio è quel fornitore che ti dicevo prima di voi pazzesca assolutamente vedete la ricerca che fanno ragazze allora è vero non possiamo prendere modelli e dire bam 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 lo creiamo così facciamo il possibile ma anche perché noi abbiamo una modellista che ci segue la vestibilità e quindi ogni volta c'è da provare il campione se il primo campione non esce bene dobbiamo fare il secondo giusto? e se il secondo poi ok è una volta volentieri il campione dopo ti dico una cosa basta che me li porti a provare no ma ho in mente una bella cosa sì amore sarai contentissima oh la e vi stavo dicendo se poi al primo colpo funziona il campione è perfetto siamo più veloci anche nella produzione sì perché lei non voleva fare l'abito che arriverà in jersey quello con l'arriccio mentre fa entrare i signori che hanno freddo grazie Doni arriverà perché alla fine quando l'ho indossato è bellissimo non ci facciamo nemmeno niente sono ancora incerta se fare l'arriccio qua o se fare la manichina già fatto incerta o non incerta già fatto perfetto allora lo teniamo va bene così perché è bellissimo è stupendo quindi già fatto arriverà l'abito che dico io con l'incrocio in jersey in te a fantasia o in due due fantasia e un unito una fantasia e veramente due uniti e due uniti va bene ok ragazzi devo chiudere c'è gente a fuori c'è gente in magazzino c'è gente a tutte le parti siete felici di averci visto insieme sì vai sentile vai sì allora Gabri sta tornando la voce avete detto orco cane ce la stavamo cavando no ma allora mi voglio cosa fareste senza senza disegno eh dai senza diretta Gabriele che fanno che facciamo che tutte me lo dicono meravigliose persino Fabio è stata una bella conoscenza ciao Fabio ciao Fabio mi mi dai dovrà tirarsi fuori anche lui ma si preoccupa per me oh che amore è delicato si fa sentire Fabio se sei ancora lì ti facciamo tutti gli auguri per quello che andrei a fare credo settimana prossima qua sarà tutto non preoccuparti dobbiamo fare forza portiamo la macchina in riparazione e poi ogni tanto capita però mi ha detto sei una bellissima persona mi fai tanta compagnia quindi 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 prossimamente ci vediamo su questo schermo e comunque sia vi vogliamo molto bene molto bene tanto 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 ciao e le bimbe siamo più le bimbe siamo mati Ginny sì amati la Ginny peccato che non sono biondine beh sì si pensava che la Ginny avesse gli occhi chiari invece sono diventati davvero due perline scure sì anche lei allora è proprio bene lo stampo è quello amori ciao ragazzi è stato davvero un grande piacere tutte le domande tutte le richieste su whatsapp ai numeri che vedete lì mi raccomando ok ciao bye bye